e ciao a tutti amici io sono franco aversa avete visto oggi il mio short sul effetto fantasticoso con le scritte l'effetto scramble andiamo a vedere molto più tranquillamente a una velocità più consona come realizzare questo effetto e eventualmente quali altre possibilità ci dà questo effetto allora devo dire subito che l'effetto si può ottenere richiamando un text più direttamente dalla edit page oppure anche con una new fusion composition e andando a editarlo in fusion non ci sono differenze allora io vado a richiamare gli effetti ecco qua c'è già il pannello aperto vado su title e prendo text più lo vado a mettere in timeline anche qui il testo possiamo editarlo qua o direttamente dalla pagina fusion per andare in fusion possiamo cliccare direttamente qua o anche dall'effetto qui è indifferente qui l'ho fatto cliccare sullo short perché non si vede così spesso quindi se anche clicchiamo qua da vinci ci porterà alla pagina fusion vedete che il nodo template qui è lo stesso che verrebbe richiamato da qua è un test più infatti i nodi sono uguali identici soltanto che qua viene nominato template perché è stato passato dalla edit page quindi qui andiamo a scrivere una parola che desideriamo ad esempio adesso scriverò titolo posso fare la scritta quanto grande voglio ovviamente scegliere il mio font anche particolare magari ecco facciamo una cosa così posso andare a arricchire questo font anche sugli shading aggiungendo un bordo eccolo qua possiamo anche colorarlo posso aggiungere anche un eventuale ombra eccetera eccetera l'ombra io non la consiglio molto perché forse è più pulito questo effetto fatto così perché le scritte dovranno cambiare adesso per far cambiare questa scritta vediamo un esempio pratico di far apparire solo una scritta partendo da simboli strani o viceversa partire dalla scritta e scomporla in simboli strani vediamo come facciamo andiamo all'inizio della time ruler e andiamo sulla casella del testo sul quale abbiamo detto possiamo scegliere anche i colori e andiamo a cliccare tasto destro nell'area proprio del del testo andiamo giù noi di solito eravamo abituati a fare gli effetti follower questi qui invece adesso andremo a usare test scramble ecco qui non vediamo nessuna differenza ma si è attivato il modifier quindi spostiamoci un attimo sul modifier e abbiamo questo nuovo pannello dove abbiamo nuovamente il titolo e questi controlli andiamo a vedere cosa sono questi controlli come vediamo ora è tutto a 0 se ci muoviamo non succede assolutamente nulla abbiamo qui questo randomness che cos'è se noi andiamo a alzare vedete che a casualmente abbiamo un cambio del singolo carattere in base a cosa in base ai caratteri scritti qua sotto quindi se noi lasciamo questi caratteri così dove in questo schermino vediamo caratteri sostitutivi diciamo avremo una questo titolo che viene scomposto in uno di questi caratteri e vedete se mettiamo play vedete che abbiamo questo continuo cambio di caratteri non raggiungiamo una parola perché abbiamo lasciato questo attivo così a 04 intanto possiamo vedere che questi caratteri possono essere sostituiti anche da un unico carattere ad esempio potremmo fare un cancelletto e come vedete la parola titolo viene sostituita casualmente da cancelletto se vado in play vedete che una una lettera sì e una no è sostituito da cancelletto perché dipende da questo valore qui quindi andando a modificare questo valore vedete quando andiamo a inserire uno dice ok sostituisci tutti i caratteri quindi se mettiamo in play vedete che resteranno questi caratteri fissi cosa dovremo fare noi dovremo agire attraverso i keyframe quindi ad esempio impostando questo runness un keyframe qui a 0 poi ci spostiamo e portiamo questo randomness a 0 avremo il cambio come vedete da 0 che pian piano le lettere vengono sostituite col carattere effettivo della nostra parola e avete visto che mettendo in play avremo che si compone la nostra parola quindi se vogliamo sostituire la nostra parola con ad esempio dei caratteri cinesi basterà trovare un font che possa visualizzarli e incollarli su caratteri sostituti quindi se mettiamo in play ora avremo questi caratteri cinesi come visto si trasformano in titolo o come avete visto possiamo usare lettere minuscole inseriamo qui e avremo queste lettere minuscole che pian piano si sostituiscono con un po' di esperimenti si possono anche scrivere delle lettere che vengano sostituite per dare una parola di senso questo è un po' più difficile perché la parola deve contenere lo stesso numero di lettere del nostro arrivo ad esempio in questo caso titolo sei lettere tavola sei lettere e cercare manualmente la maniera in cui viene vengono sostituite le lettere come vedete possiamo in questo caso partire da tavola e andare a finire però non è questo il modo di procedere qua inseriamo pure dei simboli delle lettere tutto quello che desideriamo e verranno sostituiti possiamo anche una volta arrivati alla nostra parola inserire un keyframe per mantenere un po' questa parola quindi quando la parola sarà composta quando randomness arriva a 0 ci portiamo che ne so ad esempio a 110 e confermiamo un altro keyframe di randomness 0 così dal secondo al terzo keyframe resterà questa parola e poi potremo nuovamente scomporre scegliendo un altro vedete numero di sostituzione dei caratteri quindi far riscomporre la parola avremo si parte da un qualcosa di strano si va sul nostro titolo resta fermo poi si scompone ok come vedete adesso io non l'ho fermato e andrà avanti a scomporsi fino a arrivare in fondo se invece vogliamo che la parola si trasformi in una seconda parola basta ricordarsi che anche quest'area del testo si può keyframe quindi sul titolo qui inseriamo un keyframe ci spostiamo sul keyframe successivo e scriviamo qualcosa se ha lo stesso numero di caratteri è meglio se no non importa ad esempio scriviamo presenta questo si può scrivere con caratteri maiuscoli o minuscoli è indifferente e ovviamente dobbiamo fare attenzione che quando arriviamo all'altro keyframe il nostro randomness sia di nuovo a 0 quindi ora abbiamo titolo guardiamo cosa succede qua vedete che si trasforma in presenta quindi qua così gli diamo un altro keyframe di presenta e tra questo e questo andiamo a alzare qua in mezzo il nostro randomness in questa maniera cosa succede qua partirà da 0 qua sale e qua dobbiamo farlo riscendere come vedete ritornando a 0 mostrerà la seconda parola ecco qua cosa abbiamo ottenuto partiamo da caratteri strani componiamo la prima parola scomponiamo e ricomponiamo e avete visto procedendo così possiamo continuare a cambiare parole come scomponendo qui cambiamo la parola sul keyframe torniamo avanti e riportiamo di nuovo a 0 il comando animate on farà animare questa scritta di continuo proviamo a creare con le spline una maniera di andare su con l'effetto di chiamiamola codifica e tornare a 0 quindi noi partiamo con una codifica alta eccolo qua mettiamo un keyframe ci spostiamo ad esempio a 15 e la riportiamo a 0 adesso per ripetere tutto ci spostiamo a 30 e rialziamo la codifica adesso cosa facciamo per non ripetere sempre questa cosa andiamo nelle spline e andiamo a guardare il randomness qua siamo a quasi 1 mettiamo 1 così sarà uguale qui andiamo a 0 quindi si leggerà la nostra scritta se vogliamo mantenere per un certo tempo possiamo questo keyframe portarlo a 0 vediamo anche il valore qua e quindi poi qui ad esempio abbiamo un altro keyframe dove lo riportiamo di nuovo a 1 ecco vogliamo ripetere questa sequenza in maniera che la nostra parola passi da non essere leggibile essere leggibile per un certo tempo e poi di nuovo non è leggibile prendiamo questi keyframe così e andiamo a premere set relative in questa maniera come vedete verrà copiato i keyframe continueranno all'infinito se mettiamo in play vediamo che la parola è visibile e non è visibile è visibile e così via adesso il gioco sarà quello di attivare i keyframe anche sulla parola ad esempio ciao andiamo avanti dove la parola qui è visibile possiamo lasciare ciao qua andiamo avanti non sarà più visibile e dove non sarà più visibile qui andiamo a cambiare la parola ad esempio casa avete visto che ora avrò il passaggio ciao casa se qua andiamo a vedere i keyframe del testo di input test ecco qua che vediamo gli input del testo i keyframe del test dopo che abbiamo fatto casa quando si riscompone andare a inserire un altro keyframe qua e cambiare questa parola cane tanto questa parola adesso sarà visibile solo quando ritornerà eccolo qua il random a zero poi lasciamo andare avanti di nuovo il random se visualizziamo anche il random possiamo vedere il punto esatto dove noi dobbiamo cambiare le parola cioè quando la codifica è il massimo noi possiamo andare qua e scrivere di nuovo un'altra parola pane adesso dico che sarà visibile solo quando la codifica torna a zero vedete resterà visibile per questo tratto qui poi si riscompone di nuovo e solo qui noi potremo cambiare la nostra parola in teoria possiamo anche aumentare il numero di lettere ma attenzione che le vedremo comparire di colpo se io scrivo ad esempio tetto che ha una lettera in più vedete che andrà ad aggiungersi una lettera in più andiamo dove è visibile tetto eccolo qua vado avanti e qui ad esempio scrivo pipistrello ora vedete come il numero delle lettere va di colpo aumentando vedete che c'è proprio uno scatto aumenta e poi ovviamente tornerà qua andiamo a vedere cosa abbiamo combinato possiamo andare anche sulla sulla edit e ecco qua come vedete abbiamo queste parole visibili per quel tempo molto interessante poi lasciandole più lunghe ovviamente saranno più visibili questa cosa ovviamente dei keyframe si può fare per qualsiasi cosa quindi se io voglio anche cambiare colore alle parole dovevo fare la stessa cosa sul colore andrò a insegnare un keyframe faccio ad esempio ciao quando si scompone qua da ciao posso mettere un altro keyframe e spostandomi cambiare il colore ad esempio lo facciamo venire giallo vi faccio solo questo esempio perché dopo continuerete a fare così vedete che qua si scompone poi quando andrà adesso a scomporsi vedete che passa dal nostro bianco pian pianino a sfumare al giallo questa è una sfumatura tra keyframe se non volete la sfumatura dovete fare due keyframe molto vicino adesso andrà su vogliamo che si trasformi in casa arancione ad esempio qua così mettiamo un altro keyframe e quando avremo la parola casa perfettamente andiamo a cambiare i colori in arancione e in questo tratto qua vedete che da giallo passa arancione e così via questa animazione come avete visto è molto carina è la stessa che abbiamo usato oggi e il passaggio può essere fatto molto più rapido sulle lettere codificate diciamo e lasciare di più la scritta visibile a questo si possono veramente aggiungere tantissimi effetti come per esempio sul setting possiamo andare ad attivare un dynamic zoom che farà zoomare pian pianino le nostre scritte in piccolo o con lo swap da piccolo a grande carinissimo qui è il discorso di poter aggiungere un soft glow e illuminare le nostre scritte queste scritte ovviamente possono essere messe in sovraimpressione dove desideriamo ho resettato tutto e vi faccio vedere questa scritta qua ad esempio franco aversa io vado a inserire come abbiamo appena fatto adesso test crumble modifier e invece di inserire caratteri vado proprio a cancellare tutto ora vado a inserire un numero e come vedete ho questo effetto di scrivente che è molto carino perché va a comporre le mie lettere quindi le va a sostituire tutte con lo spazio io ho fatto spazio potrei anche fare dei puntini per esempio in questo caso sostituiremo con dei puntini come vedete anche questo molto carino o con delle linee quindi ad esempio battiamo tutto vuoto andiamo all'inizio postiamo tutto mettiamo un keyframe andiamo dove vogliamo far comparire la parola ad esempio dopo 15 frame la facciamo comparire spostando a zero e il risultato è questo che la parola come avete visto compare molto velocemente da nulla e possiamo lasciarla come detto prima con un altro keyframe e poi farla sparire nella stessa maniera e ecco qua un effetto simpatico per far apparire e sparire le scritte ultima cosa come vedete anche i caratteri sostitutivi hanno un keyframe quindi possiamo partire da vuoto quindi così e far apparire la nostra parola e poi da qua prima che si scomponga mettiamo un altro keyframe mettiamo un keyframe qui dove andiamo a inserire dei caratteri cosa succede non scomparirà più vuoto ma scomparirà sostituendo i caratteri come vedete ecco qua il passaggio da zero appare e poi si scombina io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella e se avete qualche domanda ovviamente iscrivete in descrizione